vedete vedete cari amici il paradiso cari amici vedete e qua io sono a peschiera sul lago di garda vedete che c'è il paradiso si vede il paradiso cari amici vedete che bello che è il paradiso guardate che bello che è questo qua è il lungo lago di peschiera sul lago di carda guardate che bello che bello che bello voi non mi venite a dire che non esiste in paradiso e soprattutto soprattutto che si fa in paradiso soprattutto che si fa cari amici che si fa ma naturalmente in paradiso si legge la stile del serpente di Serafino Massoni questa spettacolare opera storico mitologica che vi spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato vedete che è scritto qua Serafino Massoni cari ma che bello che è il paradiso caro ma che bello il lungo lago guardate la gente felice e contenta guardate bene cari a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni